Anche questa settimana il mercato nero di Maurice si è spostato e questa settimana ci troviamo a Desonation Edge su Necrotafeio. Ecco quindi il percorso velocizzato. Mentre arrivo al mercato nero vi ricordo di iscrivervi, nel caso non lo siete ancora, per supportare questo canale e non perdervi la settimana prossima quando il mercato nero di Maurice si sposterà, cambierà quindi mappa e posizione e cambierà anche loot al suo interno. Inoltre nel caso vogliate supportarmi e ne abbiate la possibilità, da qualche tempo ho attivato gli abbonamenti al canale che per un piccolissimo prezzo al mese vi permetterà di avere alcune emote e dei simboli aggiuntivi da utilizzare nei commenti sotto i video. Per quanto riguarda il percorso è estremamente semplice, vi basterà spawnare direttamente la base di Typhon, prendere un vericolo, andare a sinistra e attraversare la zona in cui combattete contro i mali monoscuri. Proseguendo per questo pezzo di mappa poi vi troverete su una sporgenta sulla destra il mercato nero. Quindi questa settimana nel mercato nero di Maurice troveremo il fucile d'assalto Embrace the Pain o The Pennis Power, sono la stessa arma diciamo con due effetti diversi, dipende dalle parti. Troveremo il lanciarazzi leggendario Jericho e infine lo scudo leggendario Front Loader.